Buongiorno a tutti e ben ritrovati per l'ultima edizione settimanale di AC News, il nostro notiziario dedicato esclusivamente all'Arezzo Calcio. Cominciamo la puntata di oggi e diamo subito il benvenuto a Matteo Brunori, che è tornato a trovarci alla fine di questa stagione, che per te è stata giustamente definita una stagione esaltante. Sì, sicuramente sono molto contento della stagione appena conclusa, tra virgolette, perché ora ci sono i play-off, però sono molto contento. Beh, adesso arriva il bello, perché i play-off vi siete allenati tanto, arrivate comunque a questi play-off con un'ottima forma fisica. No, assolutamente, arriviamo che stiamo bene, abbastanza bene tutti, soprattutto sotto l'aspetto mentale, siamo liberi, quindi affrontiamo le gare con la consapevolezza delle nostre forze, quindi ci siamo. Tu sei stata un po' la rivelazione, se vogliamo, di questo campionato per quanto riguarda l'Arezzo. All'inizio comunque nel prestagione si pensava che il favorito rispetto a te fosse Perzano, che invece poi ha trovato sempre meno spazio. Poi c'è stato quel momento un pochino di down che hai avuto, anche fisiologico giustamente, alla fine del girone di andata. Eppure tutte le volte sei riuscito a riemergere, a mettere la tua firma? Sì, sicuramente non ho mai mollato durante tutta la stagione, anche quando magari non riuscivo a trovare la via del gol, mi mettevo a disposizione della squadra, fare magari il gioco un po' più sporco. È normale che ci sono delle partite, dei momenti che non riesci a dare quello che magari vorresti, quindi in quelle occasioni devi mettere dell'altro dentro. Sono contento che in varie occasioni sono riuscito un po' meglio, un po' peggio a dare. Anche se comunque la cosa che ti è stata sicuramente riconosciuta è il fatto che non sei l'attaccante lì fermo davanti all'aria che aspetta l'occasione per metterla dentro, ma insomma tu ne massimi di chilometri si può dire in campo. Non è proprio la mia caratteristica, anche perché il colpo di testa non è che è la mia forza, quindi non mi piace stare un po' più magari anche intorno all'aria. Però faccio quello che mi chiede il mister, lo staff, quindi vogliono da noi, dagli attaccanti che siamo i primi difensori, quindi ci mettiamo a disposizione. Beh, giustamente. Quando sei arrivato pensavi che avresti avuto questo esploi, soprattutto se c'è stato magari, ora al di là del mister che comunque ha saputo fare un ottimo lavoro con una squadra molto giovane, c'è stato magari qualcuno all'interno della società, all'interno della squadra che ti ha magari regalato la sua esperienza, anche perché mi immagino che comunque la prima esperienza all'interno dei professionisti, un pochino, ti rende sempre un po' smarrito, comunque sia vai a affrontare qualcosa di nuovo. Magari quando passi dei momenti difficili che non, come detto prima, non ti riescono le cose magari più facili, c'è bisogno di qualcuno che sia dentro lo spogliatoio che all'esterno la dirigenza comunque ti dia una mano. E questo è accaduto. Abbiamo la fortuna di giocare con giocatori come Nello, come Fabio, Pela, che comunque nel momento di difficoltà magari ti danno una parola, un consiglio che aiuta tanto. E questo anche nella dirigenza con il direttore e il presidente, quindi sono molto contento. Già ci si interroga quale potrà essere il tuo futuro dopo i play-off e per la prossima stagione, perché comunque in Amaranto sei uno dei più amati dalla tifoseria. Sì, no, questo sono veramente felice, mi riempie il cuore. Purtroppo non sono io che decido il mio futuro, quindi io qua sto benissimo. Adesso penso a finire nel migliore dei modi il campionato, c'è i play-off, quindi ecco, ho la testa solo qua adesso. Già, stanno uscendo nei vari social network, nelle testate. La domanda che ci si fa è un po' quale sarà il protagonista di questi play-off nella Rosa, nell'Arezzo. È uno dei tuoi obiettivi magari riuscire a… Ma no, io l'obiettivo è andare il più avanti possibile, veramente insieme a tutti, perché è quello che vogliamo dentro lo spogliatoio e all'esterno. Quindi chi sarà il protagonista non lo so dire, però sicuramente insieme possiamo fare qualcosa di grande. Hai dedicato la vittoria che hai avuto del premio della Perla Maranto alla tua fidanzata, che comunque sia, immagino, da donna non sia semplice accostare accanto a qualcuno che di lavoro fa il calciatore, perché gli alti e bassi, anche a livello emotivo, penso gli sbalzi ce ne siano effettivamente… No, è per quello, perché magari nel momento negativo riesce a sopportarmi a tutti i malumori che ho, quindi se l'è meritata, io l'ho dedicata molto volentieri. E senti, che effetto ti ha fatto ricevere questa Perla Maranto? Che comunque è un premio importante, perché si parla di gesti tecnici, si parla di episodi particolari, quindi vuol dire che settimana dopo settimana c'è sempre stato qualcuno che per ogni partita ha fatto il tuo nome. Sì, no, io sono molto felice di questo, infatti ringrazio tutti, però adesso, a parte il premio che sicuramente fa molto piacere, adesso io pensare a finire il campionato nel milione dei modi. Beh, questo immagino, c'è una squadra che speri magari sia quella che incontrerete in questo secondo turno dei playoff? No, non lo dico, non lo dico, non lo dico, non lo dico, però… Invece a Pistoia, immagino quando avete finito la partita, che avete saputo anche che poi c'era stata questa sconfitta a Olbia della Provercelli e quindi eravate riusciti ad arrivare quarti, perché insomma, quello che ci auguravamo tutti all'inizio della partita era il quinto posto, ci avremmo messo una firma col fuoco perché si avverasse questa ipotesi. Poi, nessuno magari pensava che la Provercelli perdesse ad Olbia, però questo è il campionato, quindi sicuramente per noi è un'opportunità importante, quindi arrivare quarti, salti il primo turno e quindi abbiamo la possibilità di giocare in casa, la prima partita dei playoff sicuramente ci darà una grande mano. Per quanto riguarda invece Mister Dal Canto, che tra l'altro ha presenziato anche alla premiazione che c'è stata al quartiere di Porta Santo Spirito, sia per te che per Fabio Foglia, effettivamente si è parlato tanto durante questa stagione del fattore Dal Canto, di quanto fosse importante in un gruppo giovane, fondamentalmente sia i tifosi che anche gli addetti ai lavori, erano contenti di questo progetto triennale, però non avrebbero mai sperato in un finale di stagione di così alto livello. Effettivamente a vederlo da dentro, dal canto, il fattore Dal Canto, quanto ha influito? Sicuramente tanto, perché ci ha dato un'identità, quella che noi magari scendiamo ogni domenica, ogni sabato e sappiamo cosa fare dentro il campo, penso che è la cosa più importante. Andiamo con delle idee ben precise, quindi sin dal primo giorno di ritiro ci ha messo, ha provato a metterci dentro delle sue idee e è riuscito benissimo a fare questo. Bene Matteo, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo perché i playoff a questo punto sono vicinissimi e c'è da portare a casa anche quest'altro risultato e magari ci vedremo poi alla fine anche di questa corsa e di questa avventura. Noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità e poi torniamo per proseguire con AC News.